Bello ragazzi e benvenuti in questo Acquisti Manga 25 Allora, devo dire che c'è un sacco di cose e devo dire anche che delle cose che ho comprato 10 minuti fa non le ho ancora potute leggere, chiaramente quindi se magari vedete di una serie due volumi magari ho letto solamente uno dei due perché l'altro, prendendolo oggi, difficile averlo letto comunque, cominciamo subito con qualcosa di molto, molto serio e sto parlando di... com'è che si chiama? Oddio... questo Oddio... Oddio... Image L'Image Oddio l'Image non so cosa sia, non so come si pronuncia me l'hanno regalato è il primo volume non lo so, non... quello passiamo ragazzi a qualcosa di più serio e passiamo a One Piece Party 2 cioè, dai raga, bellissimo perché se sta a luce mi dà un fastidio alla finestra comunque, One Piece Party 2 per me è l'ultimo volume perché non ho intenzione di prenderne altri non so neanche quanti sono, quanti saranno però questo chi l'ho preso già tipo un mese fa no, mese fa no forse tre settimane fa One Piece Party 2 stando in tema ragazzi con spin-off con volumi che non hanno a che fare con la serie principale vi sto parlando di Fairy Tale S questo è il primo volume e io ho visto che sono così stronzo mi sono preso anche il 2 che è uscito oggi e indovinate questo l'ho preso tipo due settimane fa o tre settimane fa non l'ho letto e questo l'ho preso oggi quindi indovinate non l'ho letto magari lo leggerò fra 3, 4, 5 anni comunque Fairy Tale S praticamente sono storielline che in Giappone mettevano alla fine di ogni volume di Fairy Tale in Italia non l'hanno fatto e quindi hanno deciso di fare un volume intero unico con unico più volumi ma comunque con tutte storielline dentro di Fairy Tale che si trovavano alla fine dei volumi originali giapponesi in Italia per rubare i soldi sono fatti apposta ci sono anche delle novità ragazzi e ogni tanto quando magari vi faccio vedere i volumi che ci sto continuando gliene butterò in mezzo una partiamo subito proprio con una novità e parliamo con The Breaker questo già qualcuno di voi l'aveva visto perché ci avevo fatto un video anche apposta e mi è piaciuto? assolutamente sì avevo ordinato dal 2 al 5 proprio mi sembra appena l'ho finito l'ho ordinato l'avevo ordinato è arrivato? no! perché? perché non l'aveva ordinato cioè io l'avevo detto con lui ma lui poi non si è dimenticato comunque non l'aveva ordinato ho visto oggi comunque l'ha visto lui oggi che in negozio aveva il 2 e il 3 e infatti mi sono comprato il 2 e il 3 di The Breaker non li ho ancora letti perché come vi ho detto li ho presi oggi sì The Breaker mi piace devo stirare la copertina del 2 perché come vedete è un po' rovinata adesso in qualche modo farò e niente The Breaker bello ve lo consiglio numero 49 di Orfani Nuovo Mondo questo è il primo volume della terza serie di Orfani l'ho letto sì bellino magari con calma quando avrò voglia mi farò anche il resto della serie costa 2,50 quindi costa anche poco vabbè sottiletta e non è male non è male però con calma cioè non è una cosa da leggere per forza ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa serie ragazzi numero 18 della Perfect Edition di Usho e Tora se si vedrà mai una volta comunque ecco Usho e Tora numero 18 bello più bello del 17 però dai sì mi piace voglio sapere come finisce però comunque lunghissimo per essere una Perfect questo non è neanche troppo grosso però dai mi piace numero 24 ragazzi di Haikyuu a me piace continuo a prenderlo e ve lo consiglio numero 12 di One Punch Man bello mi piace mi piace continuo a comprarlo sì manga molto leggero ma ci sta assolutamente bello numero 10 ragazzi di Black Clover allora io lo ripeterò sempre tutti i volumi che comprerò Black Clover è fatto da Dio perché? perché non ci sono capitoli inutili non ci sono cioè finisce una serie importante ne inizia subito un'altra è questo questo voglio io in un manga voglio che ci sia questo ma se ci metti in mezzo delle cose che non hanno senso solamente per fare spazio e per allungare la frittata fa cagare quindi Black Clover 10 bellissimo e ve lo consiglio chiaramente però cominciate dall'1 numero 86 di One Piece non ve ne parlo che cosa vi dico di One Piece lo sanno tutti lo seguono tutti io mi devo guardare ancora le ultime due puntate 86 di One Piece andiamo veloci ragazzi se no qui non finiamo più c'è veramente il mondo numero 4 di Boruto ci ho già fatto un video apposta quindi non ve ne parlo andiamo avanti prossimo adesso devo piarli se riesco cala troia numero treno dico treno e sparisce magari succedesse sempre così numero 35 36 e 37 di Naruto Color però prendiamo il numero 36 e si chiama come vedete Naruto Or Naruto Or perché Color l'hanno lasciato dietro Sasuke quindi Naruto Or quindi gli altri sono Naruto Color questo è Naruto Or quindi non so se lo trovate anche voi questo è un'edizione speciale basta non devo smettervi delle stronzate numero 23 di The Seven Deadly Sin veramente bello continuo a comprarlo mi piace straconsigliato numero 3 numero 4 di Platinum End bello veramente bello chiaramente non è proprio il manga della vita però non è brutto ti rimane ti fa rimanere lì attaccato e ve lo consiglio chiaramente poi oh va oh bata non è che siano di primo pelo numero 4 di Dragon Ball Super una volta finito l'anime alla fine si sa un po' come va il manga anche se sarà un pelino diverso l'ha già detto però insomma non penso che cambi più di tanto numero 3 di Ghost In allora bello è una storia un ecchi abbastanza tranquillo un classico punto se volete compratevelo non posso dire altro non posso dire che è diverso dagli altri perché non è vero numero 2 ragazzi di My Hero Academia Smash anche questo sarà l'ultimo volume anzi mi sa che è questo l'ultimo volume non quello di One Piece tipo One Piece Party sai che non lo so comunque numero 2 di My Hero Academia Smash visto che abbiamo parlato di My Hero Academia chiaramente qui abbiamo anche il numero 14 e visto che ripeto io sono stronzo mi prendo anche il 14 nella Variant che è bellino ma anche il 14 normale non è male dite voi quale dei due preferiti questa è la Variant e questa è la normale normale Variant numero 54 di Fairy Tale Battaglia 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 voglio continuare a leggerlo mi piace ultimo ragazzi ultimo volume di Torico preso oggi non l'ho ancora letto ditemi voi ragazzi se vorreste un video su Torico un video sulla fine di Torico io me lo immaginavo un pelino più grande infatti no fate un cazzo mi sa che no è grande come sono grandi come gli altri comunque numero 43 di Torico ultimo volume numero 29 numero 30 ragazzi di Guns indovinate questo l'ho letto questo non ho copiato oggi quindi numero 29 numero 30 sono belli almeno questo è bello questo immagino di sì ma ancora devo leggere numero 5 di Radianto preso oggi anche questo però a me Radiant piace una lettura leggera ci sta ve lo consiglio numero 10 di Monster Musume raga bello non l'ho ancora letto cioè bello non l'ho ancora letto questo perché questo ho preso oggi e sì questo è un zoom classico ero rimasto un po' indietro ragazzi ma non perché volevo io ma perché non arrivavano i volumi numero 5 e numero 6 di L'eroe è morto cioè io avevo questo il numero 6 ce l'avevo già da una settimana e mezza neanche bello il numero 6 va che bel volume il numero 6 il numero 5 è già meno ma il numero 6 è più bello e quindi non potevo leggere il 6 se mi mancava il 5 quindi oggi è arrivato il 5 e me lo leggerò magari stanotte quando avrò voglia mi leggerò il 6 il 5 lasciampe sto scherzando nuovo arrivo ragazzi sto parlando del numero 1 di Sprite e ho preso anche il secondo anche se il secondo alla fine non l'ho proprio preso me l'ha regalato quindi ho preso Sprite i primi due volumi l'ho letto il primo mi è piaciuto tanto il secondo è già un po' meno magari lo continuerò con calma quando avrò più voglia non è brutto però non lo consiglierei a tutti diciamo mi immaginavo qualcosa di diverso già che ci siamo ragazzi andiamo avanti con un'altra novità e sto parlando col primo volume il primo di due di One Piece Gold allora questo ragazzi è un volume che costa 9,90 euro gli mortacci vostri chi è che la cassa Star Comics è andata a fare 9,90 euro ragazzi e praticamente adesso ve lo faccio vedere full color è la storia del film di One Piece Gold tutto qui ultimo ragazzi ultimo volume per me di questa serie perché non ho intenzione di continuarla assolutamente ve l'avevo anche detto che mi sarei fermato e sto parlando del numero 10 di Tokyo Ghoul Re basta ragazzi io non ce la faccio lento un manga lentissimo noioso al 100% disegni tutti uguali scritte piccole così che io delle volte ho detto chi se ne frega se dovevo leggere una piccola parte così guarda lasciamo perdere andiamo avanti ve lo giuro non riuscivo non ci riuscivo talmente scritte in piccolo che non ci riesci questo è secondo me Tokyo Ghoul è fatto male punto volete scrivere qua sotto guarda non è vero Tokyo Ghoul scrivete quello che vi pare io non ho intenzione di continuarlo punto numero 6 ragazzi di Ricudo iper consigliato bellissimo disegni spettacolari spaziali che ve devo dire anche se magari uno non ha non gli piace così tanto la box fidatevi avvicinatevi a Ricudo e vi innamorerete del personaggio e soprattutto dei disegni numero 2 ragazzi di Neverland l'ho letto mi è piaciuto e è veramente bello perché ti lascia sempre qualcosa e dici mamma mia e adesso che succede poi finisci oddio stavo spaccando tutto finisci di leggere il 2 dici dai voglio leggere il 3 per sapere com'è veramente ed è bello ed è emozionante poi adesso in questo periodo ragazzi stanno uscendo un sacco un sacco un po' abbastanza manga di bambini di storie di orfanotrofi sia questo che come l'altro che ce l'ho l'isola dei bambini dimenticati che poi lo vedrete cioè non lo so forse questa gente si vuole avvicinare buttare dentro ai manga anche i bambini le storie dei bambini perché commuovono vabbè passiamo ragazzi a un'altra cosa e sto parlando di Dead Tube 5 si purtroppo anche io questo l'ho ricevuto in ritardo l'ho già letto chiaramente mi sono anche dato una botta nel mento l'ho già letto e mi è piaciuto mi è piaciuto Dead Tube mi piace questo qui è un po' sottile in confronto agli altri però è bello è bello è bello stra iper non stra iper consigliato passiamo ragazzi a una novità anche qui un genio dei manga e sto parlando di Naoki Urosawa e ho recuperato il primo volume di Pluto l'ho letto non male però non ho intenzione di continuarlo si la storia può essere anche bella ma no non mi ha convinto al 100% quindi lui è un mostro come disegna come fa le storie però Pluto non lo so non lo so magari più avanti ci darò un'altra opportunità ma per adesso rimane in sospeso non vi ho detto ragazzi che Pluto non è solo di Urasawa ma è anche di Tezu che è tipo una collaborazione e cioè non è male ripeto però non mi ha convinto al 100% parlando sempre di Urasawa stavolta ho preso Duenty Centuries Boys il primo volume mi è piaciuto? sì però anche questo come Pluto non è più bello è più bello di Pluto però no per adesso non mi sento di portarlo avanti lo so sto dicendo un'eresia oddio Urasawa è un mostro come fanno non piacerti io non ho detto che non mi piace ce ne ho detto che per adesso non ho intenzione di andare avanti magari un domani lo farò numero 7 e numero 8 di Sky Violation io lo amo ve lo iper consiglio compratevelo per favore ditemi qua sotto se lo leggete se vi piace vi dicevo vi dicevo prima ragazzi l'isola dei bambini dimenticati e qui abbiamo il secondo volume bello anche questo molto carino preferisco l'altro però bello anche questo arriviamo ragazzi a qualcosa di più hot di più piccante numero 23 di Prison School indovinate non l'ho ancora letto questo ce l'ho già da un po' devo ammetterlo ma ancora non l'ho letto perché sono ancora rimasto indietro in Prison School e dovrei ricominciarlo ma a leggere 23 volumi sono tanti con calma numero 4 e penultimo volume di Hiniru and the Fire questo bellino sì meno male che col 5 finisce punto numero 2 ragazzi numero 3 di Origin a me piace veramente veramente tanto Boichi è un mostro nei disegni in tutto è veramente un genio e ve lo consiglio assolutamente manco ve lo devo dire con Boichi numero 2 numero 3 di nuovo di Giant Killing questa volta anche questo bello anche questo lo metterò un po' in sospeso perché sono veramente tantissimo più di 42 volumi mi sembra quindi con calma il prezzo 4,50 euro almeno questi sono i primi poi non so con l'avanzare dei volumi si è aumentato comunque mi piace però sono veramente tantissimi i volumi adesso vedremo numero 7 ragazzi di Murcia Lago cioè raga bellissimo lei è pazza posso dire solo questo lei che è la protagonista è pazza numero 3 numero 4 di Dragon Ball full color edition di avventure del giovane Goku si chiama così? la saga del giovane Joku che ragazzo sto dicendo? comunque Dragon Ball e madonna pesano tantissimo cioè il colore li fa pesare veramente ai massimi Dragon Ball non ve ne parlo cioè vi devo parlare di Dragon Ball numero 50 e 51 di Kenichi indovinate ragazzi ho letto solo il 50 perché il 51 era arrivato oggi quindi non ho avuto ancora tempo comunque 50 e 51 di Kenichi mi piace un sacco continuo a comprarlo in tutto sono tipo 61 volumi ci stiamo avvicinando alla fine bello non potrei dire sì ve lo consiglio però alla fine sono 61 volumi raga fatevi un po' il conto ultimo ragazzi volume di oggi ho lasciato una novità alla fine e sto parlando di Armed Girl il primo volume me l'ero segnato sulle cose da comprare già tempo fa poi dopo mi sono dimenticato oggi sono arrivato e ho detto scusa Armed Girl lui mi ha detto era lì era lì proprio sul tavolo e io non l'avevo visto ho detto vabbè pigliamolo vediamo se è bello o meno ditemi voi se l'avete letto o no io ancora non non ho avuto la possibilità boh non lo so prima di chiudere il video ragazzi voglio ringraziarvi perché il video acquisti scorso è stato il video acquisti più visto del mio canale quindi non so magari c'era qualcosa di particolare forse la postazione quindi spero che succeda anche in questo video e niente ragazzi grazie mille e chiudo qui il video sapete se vi è piaciuto il video un bel pollicione in su se non vi è piaciuto chiaramente pollicione in giù e bella grazie mille